Ecco il nostro piccolo protagonista, piccolo ma grandissimo protagonista, ed anche Tierrine Vick, ed anche Guglielmo Marchetti della distribuzione Notorious Pictures, che dobbiamo ringraziare per il film e per averci portato qui a Roma, non soltanto il primo film, ma anche il secondo. Il primo è stato un grande successo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.